Cuperlo a casa, a casa, via! Sono i Renziani, Cuperlo. No, ci sono due contestatori. A casa, Cuperlo, tu mi devi dire che cosa ne faccio io di questa testa da quando avete deciso? Che Di Maio vi ha tradito, ha chiuso il forno, che ne faccio io di questa testa? Ma voi tu, ma dai, ma dai, il forno, l'apertura, il dialogo, ma di chi? Per chi vi abbiamo votato, no? Ma tu non mi hai votato. Ti giuro, su parlare da noi, che ti ho votato alle primarie. E quanto me ne sono pentito, non è l'idea. E rispettare le posizioni. Tu devi rispettare una maggioranza, un segretario, degli elettori, due milioni che l'hanno votato. Sei tu che non l'hai mai rispettato. Io ho sempre rispettato il mio partito. Mai rispettato, dovete andare via. Te l'ho gridato in un'altra direzione, sei rimasto. Perché devo andare via? Perché questo non è più il tuo partito. E tu, Docini, tu, qual è il mio partito? E tu è quello del 3% del tuo compagno. Decidi tu qual è il mio partito. Io sono rimasto nel mio partito. Magari potessi. Tu non hai nulla. Avete danneggiato. Avete dominato. E il 40% è la differenza. Poi avete boicottato. Rispetto e l'educazione. Finisci. No, finisci con questo.